Ci sentiamo in dovere di ringraziare pubblicamente il prefetto Cosima Distani per l'importante lavoro di mediazione svolto. A lei vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell'azienda e di tutto il comitato per l'importante lavoro svolto, nell'auspicio che il tentativo di mediazione possa continuare anche nelle settimane a venire. Inizia così il comunicato del comitato Noi vogliamo il Marrelli Hospital. Purtroppo nonostante le sei ore di discussione, nonostante il lavoro di preparazione dei giorni precedenti, l'incontro in prefettura non ha portato nessuna soluzione, anzi ha certificato un chiaro ed evidente segno di chiusura da parte del commissario Scura nei confronti della problematica prospettata. Non è un problema di budget, hanno affermato a gran voce i responsabili della struttura, ma piuttosto di avere rimborsato le prestazioni che sono state già erogate ai pazienti crotonesi e calabresi, ed ancora il problema è capire che fare con le prestazioni che dovranno essere erogate nei prossimi mesi. L'inadeguatezza alla problematica anche da parte dell'ASP di Crotone e l'insensibilità, oltre che la mancanza di volontà da parte del commissario rispetto alla situazione clinica e sanitaria dei pazienti in cura presso la struttura, ha inasprito gli animi e fatto alzare i toni, continua il comitato Noi vogliamo i Marelli Osped, ma soprattutto ha convinto più che mai il comitato dei dipendenti sostenitori, riunitosi nell'Assemblea Generale, che adesso è giunto il momento di spostare la protesta a Roma. Sarà a Piazza Montecitorio, martedì 2 ottobre, la nuova sede, da dove manifestare il disagio di un'azienda crotonese e di una rappresentanza di cittadini ed amministratori con l'obiettivo di porre l'attenzione sulla problematica a livello nazionale. I vertici del gruppo imprenditoriale crotonese ovviamente saranno insieme a tutti i lavoratori durante tutta la manifestazione. La nostra azienda è un ospedale e che si rivolge a noi lo fa perché c'è un'esigenza vera, reale, una necessità. Per questo non ci arrendiamo.